Come sapete 15 giorni fa qua in Ghebba abbiamo avuto una grave scomparsa. Nel fiore degli anni, alla soglia dei primi risultati significativi nel mondo dello snow senza segni premonitori si è abbandonato il pilota Vidalce Roberto. Questo palacro è bello, è vero che la notizia viene raccolta con il sorriso, sono contento che lo ricordate con gioia ma per qualcuno sono state ore per me. Volevo ricordarlo con tutti voi e volevo dedicarvi due semplici versi che mi sono permesso di comporre in sua memoria e avrei piacere adesso se Roby vi va a scoprire. Roby vai a scoprire per piacere la lapida. Ma devo scoprire senza guardare o no? Eh guarda, guarda. E' meglio. Puoi tirare via. Lecchierare tutto. Bian, bian. Sono scinta. 30 minuti facendo messi. Leggi, leggi forte. Forte. E' il fu, siccome il mobile è impaccato, ormai la pista ha sempre il pulsante. Stete! Stete, stete, sono emozionato. Stete, il pulsante. Il membro è orbo del suo sul pista. Così percorsi attoniti. 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 Dove sono rimasto? Cercando spiegazione di così strano arcano. In una notte calda di luglio ormai avanzato, il palo del tavano al fin fu trombato. Minchia! Non già da presto fu cosa già vista oppure da zago, da cocchi o mio. No, siamo certi in tal caso, se ha pure cosa testa, testa, coglioni, fa nel sarò. Poeta? Sì, fa. Di meno di erano girati i coglioni, sa che con ancora delle bolle sono tutti i fumi. Lecce, lecce, fino a fine. Di meno di... Signore di giri i coglioni, sconfitto, umiliato, direi fatto a fette, fu al fine da villa, slottista contenta. Mi fanno! Contente, perfino da euro. Slotto un po' calvezzo, intanto il triste giorno, trovo, trovo sì, trovo sì, trovo sì, ti scrivo al commento, se non ho comito a puoi capire, lo voglio anche. A un bel pezzo, di tale vergogno non è mai più obbligo, ormai ridando, poi l'altra sono niente. Sentite quando vi è andato, siamo vicini. Ma c'è prima o dopo che ho messato, è oggi? Eh beh, se fai 5 minuti. Ma c'è una vera classifica che ho messo. Ma è, mi dipada anche. Deveva messo la rapera. Ma la foca. A imperitura, a memoria dell'ex pilota Groscia Roberto Tavano, qui ancora increduli i partecipanti e tutti al trofeo a Villa Production posero. Trieste, addia, 20 luglio, 2010. Non fiori, ma come Pier X. Il pezzo è che la puoi spiegare a Pallonato. Prima o dopo che ho messato? Tocca il buon caso. Secondo il viante. Ma piccolo, dai. Devo fare la po' il posizio che faccio. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS. Grazie a tutti.